Ed eccoci al secondo spazio di Amaranto World di stasera, sempre in compagnia di Massimo Gianni che questa sera sostituisce Paolo Galletti che siete abituati a incontrare una volta a settimana in questi due blocchi. Caro Massimo, con il Novara noi abbiamo visto un Arezzo a tratti in difficoltà, a tratti invece giocare bene ma quello che interessa è che è vero che i ragazzetti, come li chiama dal canto, non mi ricordo, comunque insomma bambini all'inizio hanno sofferto un po' l'atmosfera, la partita mai giocata di questo tipo, il pubblico, cioè eravamo quasi 5.000. 5.000, eravamo emozionati noi che insomma abbiamo visto cornici di pubblico ben differenti da questa insomma era tanto tempo che non vedevamo un afflusso al città di Arezzo di queste... Dalla serie B? Sì, esatto, credo che dall'anno della retrocessione del 2007 probabilmente abbiamo sfondato quel famoso muro che non riusciamo mai a scavalcare insomma e quindi eravamo emozionati anche noi, ci immaginiamo un giocatore... Ma l'abbiamo visto in campo, abbiamo visto che Sala, Basit, Buglio, hanno tutti sentito, Borghini stesso, hanno tutti sentito questa situazione iniziale. Sì però Gianni, io sono perfettamente d'accordo con il fatto che probabilmente la squadra in certi frangenti soprattutto all'inizio abbia un pochino pagato questa situazione emotiva. Però io tutto questo dominio da parte del Novara assolutamente non l'ho visto. Io ho visto una squadra come l'Arezzo che ha fatto comunque a prescindere dalla partita che doveva fare. E' vero che alla fine ci siamo molto impauriti, specialmente negli ultimi minuti, specialmente in particolar modo, almeno per quanto mi riguarda. Ero lì a raccontarla in diretta a Radio Italia 5 quando abbiamo preso quel palo, a portiere praticamente battuto, e a quel punto ho detto addio, insomma, noi siamo oramai vecchi. Quel palo ha fatto pensare a tutti che potesse essere un segnale per dire addio, ti saluto, ci siamo voluti bene. E' stato bello, è stato bello vedervi, è stato bello partecipare, però insomma, sull'azione seguente, se avessi potuto, insomma, avevi chiuso gli occhi, non l'ho potuto farlo. Insomma, sono quelle situazioni veramente... Anche perché poi, te mi insegni, il Novara nell'ultimo quarto d'ora praticamente stava giocando quasi con quattro punte. No, senza quasi, giocava con quattro punte e era spaccato, giocava con la difesa e i quattro punte. Tant'è vero che il centrocampo era a mano dell'Arezzo. Eh, bisogna anche dire che questa rimonta, che qualcuno potrebbe definire ennesi, ma in realtà non ha le caratteristiche delle altre. Perché, se ci guardate bene, anche rivedendo gli highlights, il primo gol del Novara è stato un gol, un tiro della domenica trovato di mercoledì. Ma diamoci chiaro, c'era poco da farci. Ora, è vero, potevano entrare con più determinazione sull'uomo che ha tirato, ma in realtà era molto lontano dalla porta. No, 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 ma sono d'accordo. Il gol, diciamo così, evitabile è stato il secondo, non il primo. Capita comunque di prenderlo. Purtroppo sono riemersi più che altro i fantasmi di fine febbraio. Però la squadra non ha perso la bussola. Tanto è vero che quando nel finale, appunto, c'era da tenere il risultato, ha rischiato di vincerla la partita. Quindi è diverso da altre volte, quando la squadra si è affievolita e poi si è chiusa nell'area perché non sapeva cos'altro fare. No, stavolta ha continuato a giocare, insomma. Sono riusciti in qualche modo a far finta che non fosse stata una rimonta. Sì, sì, pienamente d'accordo. Tant'è vero che poi abbiamo fatto tesoro degli errori nella partita contro Siena, ci siamo andati alla bandierina, ci siamo buttati in terra. Non abbiamo abboccato alle provocazioni perché a un certo punto hanno provato anche di tutto, insomma, provocarci, offenderci. Dattronde questo è il calcio, insomma, da che mondo? Sì, si è segnalato molto Bianchi in questa attività di provocazione, diciamo così. Ma, insomma, l'Arezzaretto è passata e il Novara a casa con la coda tra i gambe perché poi alla fine, questo è la curva, la curva Minghelli. Alla fine della partita i ragazzi sono stati di sotto dieci minuti e è stato quasi uno scambio di amore, diciamo così. Di grande amore, di grandissimo amore. Sì, perché proprio la circostanza lo esigeva, insomma, che questi ragazzi, poi ricordiamoci che chi è in campo, che questi ragazzi che sono in campo hanno più o meno l'età dei tanti giovanissimi che sono in curva, che ieri hanno popolato e dato vita a questa coreografia bellissima, a questo tifo incessante che è durato 90 più, non so se 7-8 minuti, che ad un certo punto ho smesso di contare. Beh, in teoria erano 5, ma non si sa quando è finita poi, erano lunghissimi. Ultima domanda, chi hai visto bene, diciamo anche in prospettiva, dei nostri giocatori, chi hai visto meglio? Io in particolare devo dire Brunori, eccellente. Sì, Brunori non finisce più di stupire tutti quanti noi, perché al di là della rete è stata la solita grande prestazione. Ed è il palo. Sì, sì, anche il palo, il rio è stato sfortunato veramente quando prendi il palo, cioè la butti fuori, ma insomma quando prendi il palo devi sempre mangiarti le mani. Ma anche in un'altra occasione, quando gli è arrivato in mezzo all'area la palla e lui si è girato, si è girato due volte, da una parte e dall'altra, è riuscito a liberarsi del difensore, ha tirato, e una gambina gli ha fermato la palla che stava entrando in porta. Sì, guarda, fra l'altro questo gesto che hai descritto in maniera eccellente è arrivato al termine di un'azione corale tutta di prima, che purtroppo veramente se lì è mancato il gol e basta, perché ha fatto una cosa eccezionale Brunori. Brunori davvero merita una categoria superiore, speriamo che arrivi con l'Arezzo dai. E così potrebbe rimanere qui, dobbiamo chiudere perché c'è il terzo spazio che ci aspetta e ci sarà Alessandro Dalcanto con noi. Quindi vedetevelo subito dopo la pubblicità, grazie. Grazie a te Gianni.